Questo opusolo nasce da una casualità pastorale. Nel mese di maggio stiamo continuando la tradizione che aveva iniziato già l'ossignor Barinelli, mio predice sole, nel 1980, cioè di fare due o tre sere a settimana un rosario itinerante, una volta davanti a una sardella, una volta davanti a una chiesa delle ex parrocchie che adesso ci sono confluite nella barrocchia dell'Uomo. E appunto da questa occasione è nata l'idea felice, felicissima, di due anni di mettere mano a questo opusolo. Io non posso dimenticarmi mai del fatto che sono tra l'altro parco. E questo mi porta a non lasciare perdere l'eredità che i nostri padri ci hanno lasciato. Ed è l'edità più grande, secondo me, come ha già accennato sull'eccellenza, la forte devozione mariana. Protezione sulla città tutta. Su chi crede, ma anche su chi non crede. E quindi non possiamo lasciare perdere quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Se ce l'hanno consegnato è perché forse si aspettavano che noi, a vostra volta, lo trasmettessimo a chi sarebbe venuto dopo di noi. Purtroppo la memoria visiva, la memoria in sé stessa, se non è suffragata dallo scritto, ma a perdersi. E quindi ecco la bellezza pastorale da tutti fruibili di questo libretto. Accennava già Giovanni, e ce lo siamo detti più di una volta in queste settimane, non è un'opera definitiva. Benvengano i contributi a migliorarla, ad approfondirla, anche a discutere di alcune situazioni che possono essere dentro il testo. Anche le critiche, quando sono costruttive, aiutano a crescere e a migliorare. E penso che in un dialogo, anche a livello culturale, la critica ha il grande valore di proporre dei cambiamenti, dei passi avanti. E questo penso che sia lo spingio che tutti ci facciamo reciprocamente, unitamente alla grazia per aver messo mano, nel segno dell'amore alla propria civiltà, di aver messo mano a questa tradizione. perché attraverso il mondo possa arrivare alle future generazioni.